Io ultimo, no ma adesso si va a slow, non preoccupate, adesso abbiamo tutti lo stesso passo, tratti, tranne Daniele che oggi non si tiene, oggi non si tiene, mettono davanti dai, io lo lascio davanti però se puoi valentare, ragazzi mi faccio lì, vamos E sono già persi, vi avevo già perso, vi avevo già perso Occhio qua Hai una voce Dan Occhio qua 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 Grazie. 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 Al primo tornante c'è una radice, state attenti. Oh, allora? Alla prossima. Alla prossima.